Una trasformazione che si riesce a fare se tutti insieme riusciamo a portare sul mercato servizi e prodotti innovativi per semplificare la vita dei clienti, delle aziende e della pubblica amministrazione. Come stanno reagendo le banche? La risposta è molto positiva, partiamo in Italia da circa un quarto dei pagamenti digitali sul totale della spesa quindi siamo indietro in Europa ma stiamo accelerando e recuperando molto velocemente.